Questa boccetta, una boccetta di disinfettante per le mani, faceva parte del pacchetto che mi hanno consegnato a una conferenza venerdì. Non in Cina, non in Asia, ma a Monaco di Baviera, alla conferenza sulla sicurezza più importante del mondo. A più di 8.000 km dall'epicentro, l'epidemia è entrata sia come tema di discussione che nelle mani, per le mani, di ogni partecipante come omaggio al posto di una penna o della solita chiavetta USB. Questa boccetta è il simbolo tangibile che il coronavirus ci tocca. Tocca a tutti noi, in Cina e fuori, tocca anche un istituto di politica internazionale come l'ISPI. Tocca anche un istituto di politica internazionale perché l'epicentro non è uno sconosciuto paese africano, ma la Cina, la potenza emergente che l'America di Trump ha messo nel mirino e cerca di isolare con i dazzi, escludendo una tecnologia, ostacolando nei progetti infrastrutturali. A questo isolamento guidato da Washington si aggiunge ora un nuovo isolamento, un vero e proprio cordone sanitario autoimposto dal governo cinese per contrastare il nemico interno, limitando persino la circolazione delle persone oltre a bloccare quello delle merci, la cui produzione si è di fatto interrotta. Tocca un istituto di politica internazionale perché dentro la Cina, per anni un modello di successo dell'insoita abbinata regime-crescita, l'epidemia e le draconiane misure messe in atto per contrastarla possono incrinare la base del patto sociale che ha garantito il potere del Partito Comunista, libertà limitate in cambio di crescita, prosperità e protezione. Se prosperità e protezione, quella nella salute, nello specifico, entrassero in crisi, le ripercussioni sul partito e sul suo ruolo nella struttura di potere cinese potrebbero essere pesanti e dagli esiti incerti e l'incertezza sulla traiettoria economica e politica della seconda potenza mondiale non è necessariamente una buona notizia. Tocca ed è rilevante per l'ISPI perché il virus può anche infettare l'economia mondiale. La Cina, da sola, genera circa il 30% della crescita mondiale. Era già in rallentamento, ora lo sarà ancora di più, con conseguenze limitate se l'emergenza rientrasse rapidamente, molto più gravi se il coronavirus non rallentasse la sua corsa. Non è una buona notizia per paesi come il nostro, dove il PIR registra, se li registra, segni positivi nell'ordine dei decimali. Tocca di nuovo l'ISPI perché la caccia all'untore, che già si è scatenata dentro la Cina fra cinesi, può con facilità riproporsi nei confronti della Cina ad opere di paesi le cui opinioni pubbliche sono crescentemente spaventate o comunque di paesi desiderosi di rendere ancora più palpabile, per interesse tattico, l'isolamento cinese. E la caccia all'untore può rendere ancora più difficile la cooperazione fra gli stati, gli esercizi multilaterali necessari per affrontare le sfide globali che ci minacciano. Il coronavirus è in sé una sfida globale e paradossalmente fu proprio per affrontare un altro morbo asiatico, l'epidemia di colera di Meta 800, che si avviano decenni di prove tecniche di dialogo fra stati, le prime conferenze internazionali che sfociarono poi nella nascita della società delle nazioni e, a un secolo dall'epidemia di colera, nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il coronavirus porrà dunque un'ulteriore pietra tombale sul multilateralismo già un po' in crisi o, al contrario, rinnoverà il senso d'urgenza verso impegni collettivi e coordinati fra gli stati? È presto per trarre conclusioni sull'impatto sulla Cina, sulla sua politica, sulla sua e sulle nostre economie, sulla competizione USA e Cina, sul multilateralismo. Ciò che è certo è che un istituto come l'ISPI non può lavarsi nelle mani neppure con la preziosa boccetta della conferenza di Monaco. È per questo che da oggi, ogni giorno, affronteremo i capitoli di questa emergenza con una serie di video su ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo del coronavirus e sui suoi possibili effetti economici, sulla risposta cinese all'epidemia, sui rischi per la Cina e quelli per il resto del mondo e, chissà, su qualche opportunità positiva che ogni crisi, speriamo anche questa, può portare. Seguiteci con attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.